Sì, lo facciamo! Sì, lo puoi! Ma te ti vuole vederla migliorare, mi scusi. Ho capito, ma ragazzi c'è un... È come dire, ha un cavallo di... È figlio di un Samuele. Se non sono uno streamer grosso, io tu sei un cavallo che vola. Dai che andiamo. Io non sto giocando al mio... Tu sei uno dei giocatori più forti in Italia. Io sono uno dei più scarsi. C'è un abisso tra me e te, lo vuoi capire? Quello che sto facendo in questo momento... È un... Un giocatore... Non pare, è un po' più forte da me. Non so niente di che. Sto andando lì, vengo da lei. Faccio così. Mi sparo perchè non ti accorgi dove sono. Io non so neanche dove sei. Efe, io non so... Efe, io non so dove sei. Non lo so proprio! Io vado a caso e se mi capita di vederti ti prendo, ma... Io non so dove sei. Non lo so! Cioè proprio non lo so! Intanto faccio il 90 bene. Fa una scala avanti e si gira a dubito, no? Tre scale. Ok, una scala e mi giro. Ok. Faccio un allenamento serio. Ragà, mo non parlo. Mo non parlo. Tanto mo facciamo mezz'ora tutti i giorni di pesantidio e faccio te se non faccio nienta proprio io. OH SHIT! Ok, non lo so. Ok, non lo so. Oh, ha capito già un po' di mare. Non lo so, non lo so. Oh ho! Non lo so, non lo so. Non lo so. Ok, ha fatto. Oh, oh! Oh, oh! Mamma c***o! Tutto d'altro di merda! Oddio! Ho tragiandato, ho tragiandato, ragazzi. Ho visto il sudare. Rigeneti, rigeneti. Tutter? Sì, scusa. Stavo un attimo concentrandomi sul... 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 Secondo! Hai visto? Oh, io non ho cambiato il livello, eh. È lei che ha cambiato il livello. È semplicemente che non sto parlando. Oh, cazzo. Ma io conduco, ragazzi. Non posso giocare in silenzio. Io non sono così. Non in silenzio, ma può migliorare anche parlando. Non come parlo io. Andiamo. Sì. Attenzione. AHHHH! What up? Amica, ma ha spaccato. Ah, ho fatto 27 di vita. La mira c'è, la mira c'è. OK. Ci sta anche a fare gli allenamenti in silenzio. Cioè, nel senso... No, lei deve imparare pure parlando. No, perché se parlo io non mi concentro sul... Sul game. Per due motivi. C'è la mia voce, che copre sicuramente gli effetti sonori. bravo questa colpa mia quando è tuo il muro perché non se ne era accorto prima che era mio vedete se c'è il tasto per ridare o meno ha ragione ha ragione oh cazzo oh cazzo questi ventuno a capire non deve iniziare col piano perché no ma come cazzo mi aggancio scusate se non faccio un piano perché le pare che ho capito quello che mi ha detto una scala un muro un piano murro e poi al piano murro murro piano piano e scala come poi al muro scala no guardi io faccio la scala dopo la partenza e muro muro avevamo non ho fatto il pavimento per il lavoro senza pavimento ti incazzi spesso sotto rimanere il pavimento Mi faccio provare a fare un 90 Vado vado Questo non è un 90 questo 180 sta facendo i portini lei si deve girare a metà non si deve dare il tutto che faccio Guardi guardi Qua mi fermo Qua mi fermo non è che faccio Questo non è un 90 questo è un 360 Cazzo che devo fare un momento Non ci deve girare il tutto ci deve girare a metà Scala Scala muro muro e non mi si attacca la scala Perché non metto il pavimento Vado vado Quel pavimento Ma l'ho sbagliato qui eh Ho sbagliato? Eh si Mi sembrano proprio fluidi però raga Guardi venga qua venga qua Tac Guardi esattamente quello che faccio La seconda scala Muro muro pavimento salgo Muro muro pavimento salgo Oh l'ha capito come si fa il 90 gradi Eh l'ha detto ho sbagliato Perché ho sbagliato? Eh l'ha sbagliato Il pavimento che cazzo si sta facendo là E' un'altra cosa non è un 90 gradi E che cazzo me ne frega sto salendo no? Hai capito ma sicuramente il 90 gradi Stia un po' più centrale Ci provo ragazzi ci riprovo E i 90 gradi a cosa mi servono? Prendere molto più facilmente l'altezza Io se li faccio mi capita Ma ne faccio uno o due Non come gradi per me a 300 Però è utile Eh mi sono incastrato sotto Non ti sei stufato possiamo giocare le duo? Mamma mia perchè mi dovrei stufare? Dari non è passata mezz'ora non fa 20 minuti Mezz'ora al giorno anche se le fa schifo la giochiamo Mica ho detto due ore, mezz'ora Dall'una meno di mezzo Dall'una meno di mezzo Dall'una meno di mezzo Oh come on man Ma non ti prenderò proprio mai Eh ma quella è la mira Ma non sai neanche dove sto No non lo so Non so dove sei Non so dove sei Ma io credo che abbia un problema proprio di audio E lo penso anche io Prova un altro paio di coupe e vedi No prova a fare una cosa semplicissima Cosa? I pazzi? Eh certo Posso dove sei? Ah 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 Ma perchè? Ma che f***o? La finisce di cadere Chiede me ne riguardiamo tra le cose F***o BOOM Ufff 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 Non ho proprio la spazio per c'è per me come se è tutto davanti No ma si sta muovendo palesemente meglio di prima che mi scusi Se vedi che metterò al giorno in due settimane un mese cambia tanto Lei è troppo ottimista Io ho due anni che gioca a Fortnite Ok hai capito troppi lunghi C'è qua dove c'è? E' super forza E' dai entrami col piccone dai bravo Non riesco a fare questo lavoro Perché lo fa così largo? Che cosa? Cos'è che faccio largo? Quel buco se ne spari Perché così non riesco a fare la L Facciamo gli ultimi due Che poi è passato da mezzo Vai Bravo Ascolta se scendo se scendo ma lo prendi il muro parco di Iaz Deve essere reattivo più veloce a infarsi il muro sopra Perché non faccio cose che la gente non sa fare Faccio cose che la gente sa fare La gente è la gente Xyuder no Appunto Deve contestare la gente O gli prendo il muro Cioè se scendo non A me ha già chiuso qualche volta Una volta Una volta Oh è filo Aaaaaaah Aaaaaaah Bravo Sì bravo col piccone Gigi Perché sta scappando? Perché non so Fightarti Perché non sono capace E perché mi sono rotti Che non sono capace Ma è ovvio che muoio sicuro Ma tanto non ci sono altre soluzioni Ma come ci sono altre soluzioni? Spari col tattico Sparo col tattico Allora Sparo col tattico Mi riprendi il muro Cerco di riprendermi il muro Mi rompi il culo Da un'altra parte Ti rendi conto Che io non sono capace Ad arrivare a questi livelli Ed è quello che devi imparare Ma non lo posso fare Perché ha un limite Probabilmente Mentale Figa Sì Fidi Ci può arrivare Eh sì Ci può arrivare Raghi Bravo 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 Andiamo avanti così Andiamo 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 avanti Tanto Tanto siamo qua a prenderla nel culo Quindi va bene ragazzi Tanto siamo qua a prenderla nel culo